luci motore e azione ola ciurma benvenuti in questo nuovissimo video del vostro capitano che sono io ragazzi reaction a ah questo è un clip da nabbo ok perfetto gg gg questo è ancora più ma ci casca due volte oh ok ok siamo pronti ragazzi siamo pronti vediamo no cosa cacchio è successo ma ma ok vabbè raga vabbè ma cosa è successo ma che sei emera dello speedrunner che fai questi errori allora sto ragazzotto ragazzi senza luci in casa va bene ok e ha ucciso penso la ragazza però in gioco naturalmente in gioco in gioco si è visto in gioco ok oh come cacchio ha fatto come ha fatto cioè ha messo il letto e ha vabbè lui si è trasportato ma fermi tutti c'è un gatto qua sotto andiamo avanti nooo si è trasportato per la stessa data caduta nooo insomma ragazzi moriva ragazzi moriva ok freccia freccia e ora si beccata solo la freccia ma non puoi aspetta ma non puoi bro bro non puoi sparare con l'arco le frecce ma sta a fare pure la speedrunner come due ore ma questo è un speedrunner va bene ok vediamo queste litre che non funzionano raga vediamo micchia raga no 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 ma tu non mi puoi dire mentre cadi oh 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 splat non puoi farlo cioè io secondo me si è sentito malissimo veramente si è sentito già ogni oh oh gli è cascata gli è passata davanti agli occhi la vita poveretto poveretto ok piazza una crafting avrò un creeper dietro 3 2 1 ma chi sei la mia ragazza che ha fatto lo stesso errore dai oh no no guarda oh no 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 ma sono caduti entrambi ok vediamo lui ragazzi lui lo vedo sveglio in realtà lui sembra sveglio no non è tanto sveglio ok non è tanto sveglio ma va benissimo così c'è un altro gatto ok no perché perché è attaccato no non si deve fare questa cosa ragazzi non attaccate mai anzi non spaccate mai gli alveari mai 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 ok poi da una musata ecco la ciao disconnesso disconnesso già telefono in mano che contattava l'admin per farsi mettere la god mod cioè è proprio la telef però sto scrivendo please operator god mod please comunque ciurma so che ancora moltiuno l'hanno fatto e quindi devi farlo subito ovvero lasciare un mega mi piace e iscrivetevi subito al canale adesso ora bravi andiamo avanti vediamo qua quando la chat distra- oh no ma è un mega streamer è un mega streamer oh no ok ok oh no insomma bravo bravo continui a leggere la chat nelle live bravo bravo fai lo streamer serio bravo ok vediamo un attimo lui veramente no ma ma ciao ma è nuova è nuova oh è esploso curry way tocca a te bella mi sei piaciuto curry way mi sei piaciuto bravissimo complimenti perchè proprio adesso esploderai perfetto ok you know what that's fine ok 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 va bene ok ok no 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 ragazzi mi è successo nooooo nooooo vediamo vediamo questo qui ragazzi è bedrock edition è la bedrock edition ma quanto è lenta quella perla insomma insomma raga ok perfetto ho paura di queste clip che vanno ancora più pazze che questo vediamo la traduzione oh no perchè ha l'audio perchè ha l'audio ok cioè lui ha craftato una craftina tra crafting ok ok ha fatto il sonno del creeper lui tipo ha perso due anni di vita vediamo la clip siamo pronti per la clip uno due olè 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 ah il il guidatore è quello che proprio non sa guidare insomma ma si è incastrato bro ma esci bro vabbè regà bravo oh oh gli dà una botta oh ma lo spinge what gli rompe no 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 è pazzo e adesso e adesso avrò tutti quelli contro e invece no no franco non può averlo fatto seriamente 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 no non può non può non può averlo fatto ragazzi fatemi sapere questo nei commenti quelle le clip che vi ha fatto tiltare di più questa 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 quando lo si è l'oggetto sbagliato ok ho tirato la cosa l'ender per sopravvive ma muore l'altro keeper ma si è trappato o mio dio si è un lemao no no ok ok raga perfetto perfetto aspettavo questo momento curiway casca nella lava 3 2 1 perfetto insomma vediamo un bot fly è lui è lui oh 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 dream è lui e vabbè ha provato a fare water bucket nel nether bro 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 e vabbè lui si dimenticato di mettersi l'elitra è un hardcore che culo che culo che culo che culo ragazzi che aveva veramente il coso il totem mo vai leather clutch perfetto insomma ok no 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 ok ok perfetto era era un topo non lo so mo cade nella lava insomma perfetto bravo 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 excuse come si chiami ok lì mi sembra un tipo sveglio comunque mi 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 Ok, lui si dimentica che ha Frost Walker Oh no Insomma No Si è salvato Per fortuna ragazzi che ha due fili di cuori Ok sale Ok Questa volta l'ha clacciata Bravo, 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 bravo Ok E muovi Insomma Vabbè, carina, carina Ottimo che si questa volta e quant'è bella Ok ragazzi Ciao